facendo il simbolo gear noi abbiamo on off con on anaglyph con off e sparisce adesso vediamo facciamo partire con on e anaglyph adesso facciamo in off e diventa normale grazie 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 prendiamo all'inizio Grazie. Andiamo qua da l'inizio e lo vediamo bene. Grazie. 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 Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Ti piace o no? Vedi un po', vedi un po'. Vedi un po', vedi un po'. Ti piace? Vedi un po' di capito, ma vado a tenere un po' di capito, perché è stata la moria. Vedi un po' di capito. 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 Vedi un po'. Vedi un po'. Vedi un po'. Vedi un po' di capito. Vedi un po'. Vedi un po' di capito. 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 Vedi un po'. Vedi un po' di capito. Vedi un po' di capito. Vedete un po'. Basta il camuzzi integrale. Quasi sono fatti a mangiare. Farsi artigianale. Scusi, cosi sono questi? Si muovere ne uno? Un'altra no. Che cosa chiedono in particolare? Quelli sono una cipolla e sono fatta male. Come le vecchie tradizioni. Le cipolle? Qua c'è normale. Quanto vedi? Un pacchetto di euro. Un pacchetto di cinque. Visti? Dopo torniamo. Grazie. Quanto vedi. Quanto vedi? E' per caso che non si. Quanto vedi? Vedi? Guarda superciato. No. Guarda, guarda, guarda che buona. Fucaccia. E' un piacere per dare un repere loro. Che? C'è anche con la rucola e con gli occhi. No, non guarda bene. Per il buio di casare. Viene qua, da la casa. Viene qua, da la casa. Viene qua. Viene qua. Viene qua, da la casa. Viene qua. ... ... ... ... ... ... E' giù di giù in torno, eh? E' giù di giù in torno, eh? E' giù di giù ci sonoدino, per il marcello? Eh? Vediamo lì, vabbè! No, no, no. Grazie a tutti. Sei? Sì. Quanto serve? Quale serve questo? Cos'è questo? Questo serve per prezzare la pasta di burro quando è uscita dal penale. Si pressava e si facevano il penale. Questo invece serviva al contadino per lavorare il legno. Era una borsa manuale, quindi metteva il pezzo di legno dentro qua, a secondo del pezzo che era. Dopodiché aveva un coltello con due manici e lavorava in faccio senso. Faceva al zoppoli, a frecci, a volerlo più pubblico. A voi le grazie. Prego? Alzo mio. Si vuole che sia per tutto. Ricordate che... Questo è il pezzo? Cos'è questo? Ah, per andare a fare i bottini, c'è scritto. Come è la scritta? Lo capito. Ancora. C'è il castagnaro al conte ma devi rubare uno per il tuo sillo andate a rigare i tuoi il video è più già visto grazie adesso il memoria si perde grazie vieni qui c'è anche un frego di porcini è lui, è lui non l'ha fatto con i porcini le castagne dove si comprano le castagne? di fronte? grazie grazie mille guarda 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 quanto viene una bottiglia di gnp? gnp è da credito di euro capito? compi conosci i nostri prodotti? eh ci credo a fare un gnp possiamo farcela? se lo vuole assaggiare io lo faccio assaggiare ergi la guardia già lo è buona c'è ancora l'assaggino proprio microscopio se riuscirò a convincere la moglie lo porterò Grazie Prego Se mia moglie si convince Grazie Vediamo se mia moglie si convince Grazie e buona Buongiorno Posso muovermi una? Sì Non è una La cosetta Presidente di prendere una No, no, io non prendo. 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 No, no 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 prendo.